Teramo ha dimostrato di voler tornare ad essere protagonista e lo ha fatto riempiendo con migliaia di persone le sue piazze nei tre eventi gratuiti che hanno incorniciato il Capodanno 2019. Cifre che non hanno precedenti, che hanno fatto gridare al miracolo della rinascita l'amministrazione comunale, i commercianti e i cittadini. Tutto si è svolto senza incidenti gravi e il servizio d'ordine è stato particolarmente efficiente. Che l'aria era cambiata si è visto subito dai 4.000 fan sfegatati che hanno accolto Cristina D'Avena il 30 dicembre in concerto a Piazza Martiri. Oltre ai bambini veri c'erano soprattutto quei bambini quarantenni che hanno cantato tutte le canzoni della loro infanzia. È stato uno spettacolo molto apprezzato seguito poi dall'esibizione dei jam boy amatissimi dalle nuove generazioni che hanno fatto la loro fortuna rimaneggiando con parole irriverenti proprio le canzoni di Cristina D'Avena. La notte di San Silvestro, sempre in Piazza Martiri, circa 2.500 terramani hanno ballato la taranta salentina per salutare l'arrivo del nuovo anno. Il sindaco Gian Guido d'Alberto ha brindato a mezzanotte sul palco idealmente con ogni concittadino e in un discorso appassionato ha ringraziato per il coraggio dimostrato dalla popolazione in questi duri anni esaltando la ritrovata bellezza della città. L'appuntamento clou del capodanno terramano però è stato quello del primo giorno del 2019 con il concerto in piazza di Ermal Meta curato dalla Primo Riccitelli. Il popolare cantautore e compositore polistrumentista albanese e naturalizzato italiano ha richiamato a Teramo estimatori da tutte le regioni limitrofe. Erano 5.000 ad applaudirlo sotto al palco e quasi 2.000 fuori delle transenne che purtroppo non hanno avuto accesso in piazza per motivi di sicurezza. Pizzerie, ristoranti e bar pieni come non si era mai visto. L'indotto per il commercio del centro storico ha fatto registrare dati davvero apprezzabili. Il segreto di questa rinascita è stato quello di fare squadra, una lezione che istituzioni e commercianti non dimenticheranno.